Mercoledì mattina il personale della squadra mobile di Torino ha arrestato due cittadini italiani di 44 e 49 anni per droga. Gli investigatori hanno notato due soggetti a bordo di due diverse autovetture parlare all'interno di un'area di sosta con l'autista di un auto articolato con targa spagnola. Dopo pochi minuti i tre soggetti sono ripartiti alla volta di un capannone industriale a Grugliasco. Il camion poi si è allontanato, immaginando che fosse stata effettuata una consegna di un carico di sostanza stupefacente, gli operanti hanno deciso di entrare e hanno bloccato i due intenti ad aprire sette pacchi, risultati contenere complessivamente 252 kg lordi di hashish. Eseguite quindi ulteriori perquisizioni presso altri immobili nella disponibilità di uno degli arrestati. L'attività ha consentito di sequestrare altra sostanza stupefacente del medesimo tipo per un peso di 94 kg e circa 549.000 euro in contanti. Una macchina conta soldi, materiale per il confezionamento e numerosi cellulari. C'è un scompacco di droga e racconta l'istinto da un marchio adesivo, riproducente a calciatori, personaggi famosi o altri marchi vari. I due arrestati sono imprenditori nel settore dell'abbigliamento e dei tabacchi, sostanzialmente privi di significativi precedenti.